Musica Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. , no, è tutto il tempo che si accadde non è vero hai due dottor, non è meglio non è meglio che ci sono non è vero non è che così le cose si riuscano non si è riuscano non ci si è riuscano non si è riuscano non si è riuscano non si è riuscano se qui ci sta non è un'azione non è riuscano non è riuscano non sono così, e non è così. Però non lo ha detto, non lo ha detto. Si non è così, non lo ha detto. Benissimo, un po' è così, se ti metti, non lo ha detto, non lo ha detto. C'è una persona, qui e in Africa, qui ha detto, non è un po' di più. Non è un po' di più. E tu come, non? Non la sua? Non la sua, non la sua! Raiven! Non la sua! C'è un'immagine! C Quickinoff, a il c'è invivere! Qual è l'inzione? Mi solem dir highest, nei fotogia! Guarda! Qual è l' genocide, suoi slogan? Non hatta! Non ho ! Si quelle le dà metà si crelate la mia ragazza aki shepherd esicsi o meno che di quella Ti ho consig resulting a small' sizin? Te ho rispollito di più? Ness�� la Mediterranea планете? Ti ho bipolar d'�mbana! Io ho stesso sa che quantпол Tada? lo sguardoVO dice che lo faccia mi sono chiamato se ti vieni a casa tu hai seguito rispondi si per me a una se mi non per le è quello che si spazza allora hai chiamo e per le ci sono 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 Non c'è mai stata la mia figlia? C'è dove, ha venuto a porsi, una cosa di farla. A vizi, non c'è chi ha detto una fatta! C'è tutti, comunque c'è la mia figlia! C'è avuto un po' che è una figlia. Questa è mai fatta. C'è anche chi era una spianto che stava al mio amore? Esatto! C'è quello. C'è qualcosa che si tratta. Voglio questa domanda. Vabbè, mi sembra di assuare vieni a te che andate? Qua che vieni a te? Vieni a te? Io vieni a te. Noi, ma bello. Anche le persone vieni si imbele sul Non bello, non viviamo parella. Vieni a te. Vieni a te, vieni a te. Vieni a te. Non mi sembrava che vieni a te. Questo è un po' che ho fatto un po' che non ti chiede l'ecchio. Vabbè, io sono una tua stessa di amici. Ti chiede, non ci chiede. Si c'è un po' che non ci chiede. Non guarda, mi chiede l'accione. Si, non c'è un po' che mi chiede. Mi chiede l'acqua. Sì, non c'è un po' che c'è un po' che c'è. Questa è la mia destra. È un po' che mi chiede. a fare un passaggio anche l'altra giusta quando l'impianti puoi un pagh creato ma l'impianto non è nulla dottie dai è questo bbb un po' merita il regale il s'aggredito è Non mi guarda, mi guarda, mi guarda. un progetto che sicuramente ho fatto è volevo andare? chi è questo? stai tirando a prenderci se è liberare non ti sembravo non ti sembra di conflare e ne senti a me c'è un progetto tutto questo? non ho capito è una membra non è una bella non ho capito non posso farlo Detta bene Ok, mi ha fatto molto E ora credo che Quasi c'è in un pazzardo Uno che fa Vabbè Vabbè Quasi Vabbè 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 Cosa Vabbè 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 We didn't give me No, mi dici! Sì! Ok, non so il giorno, puoi andare al caldo! Sì! Poi non so. Oh cominciamo! Mi sono ancora nuovamente! Tu come giorno, io? Tu non ti raggiungi! Non ti voglio stare a far vedere? Non ti voglio stare a me in questa casa! No, no! Non ci si può fare, non c'è un po' di fronte in fronte Ma non c'è chi ha detto? Non c'è chi ha detto? Oggi ci sono le mie a uscire Non c'è chi ha detto? Ma non c'è chi sta? Ma non c'è chi ha detto Ho capito, non c'è chi ha detto Non c'è chi ha detto? Non c'è chi ha detto? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.